Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Oggi parliamo di connessioni a internet, ma prima di cominciare, sigla! Benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di connessioni a internet. Come avete letto dal titolo vedremo l'unboxing del mio nuovo router. Ha un qualcosa di particolare che scoprirete durante questo unboxing, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. La confezione si presenta in questo modo. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e andiamo a rimuovere questa parte in plastica. È una cosa che non mi fa ormai tanto impazzire nel 2022. Si poteva benissimo risparmiare mettendo soltanto un po' di scotch. Prima di aprire la confezione ve la faccio un attimo vedere. Allora, sfondo azzurro, logo brand TP-Link, 300 MB in Wi-Fi, 4G LTE router, quindi questo già vi fa intuire qualcosa. Il modello TL-MR6004. Qua abbiamo l'anteprima del nostro modem router e qua abbiamo la scritta plug and play con il logo sim. Che cosa abbiamo qua? 4G con la versione in 3G compatibile anche, 300 MB in wireless e il processore è il Qualcomm. Qua abbiamo l'anteprima, come vi dicevo prima, nella parte posteriore ci dà anche altre caratteristiche, super fast 4G LTE. Qui vi fa vedere anche come potete andare a posizionarlo. Ho fatto un video dedicato anche per migliorare il segnale disegnato per la massima connessione. Qua vi fa vedere passo passo tutto quello che dovete fare per poterlo installare. Qui vi dà anche il codice QR per poter scaricare l'applicazione. Non ci serviranno in questo caso le forbici, lo andiamo ad aprire e vediamo cos'è il contenuto nella confezione. Ok, allora qua abbiamo manuale, il suo cavo di alimentazione angolare, fogli per la garanzia, il nostro router lo mettiamo da parte, guida alla prima installazione. Ci forniscono anche gratuitamente un cavo LAN, ottimo, questo però è un CAT 5, vabbè ma nel nostro caso non dovrebbe essere male. E poi ci forniscono le due antenne. Mi piace la possibilità di poterle installare o magari rimuovere per comprare qualcosa di più performante. Qua abbiamo la possibilità di poterle orientare. Mettiamo un attimo da parte e vediamo il nostro routerino. Molto molto piccolo devo dire. Allora qualità costruttiva, è in plastica, c'è questa pellicola protettiva lucida per cui purtroppo la polvere e le irritate secondo me si vedranno tantissimo. Logo bianco TP-Link, qua riflette tantissimo la luce. Nella parte posteriore le due antenne. C'è la possibilità poi come vi dicevo di poterle sostituire. La connessione power per l'alimentazione. Abbiamo 1, 2, 3, 4 uscite LAN, in realtà 3. Questa poi la vedremo a che cosa serve. Wi-Fi on-off. Il WPS per non mettere la password è collegare subito il dispositivo e qui viene inserita la nano SIM card. Questi fori ci permettono di poter appendere magari a un muro il nostro router. È abbastanza sottile, saranno un 2 cm, 3. Questi piedini ci permettono di poterlo tenere rialzato in modo tale da raffreddare il nostro routerino. Nella parte posteriore qua abbiamo il logo TP-Link 300 MB. Come avete visto nella confezione c'è tutto il necessario per poter cominciare la configurazione e poterlo utilizzare. Vi do le mie prime impressioni a caldo. Qualità costruttiva devo dire molto molto buona. Mi piace la possibilità di poter sostituire le antenne con qualcosa di più performante. Questo magari in futuro potrebbe essere un bel upgrade. Nel prossimo video vedremo come installarlo passo passo e che tipo di scheda SIM ha utilizzato il vostro Lorettec. Poi non mancheranno chiaramente gli speed test e una recensione su questo router. Adesso però voglio sapere la vostra. Avete mai utilizzato dei router 4G? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da TP-Link e Lorettec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!